per la sigla finale io vorrei maurizio che mi faceva sognare come fan io ti chiedo di cantarmi cinque minuti e poi ma porti su anche cristina ma guarda che hanno avuto dei senti numero uno lo fa solo per te questo cinque minuti e poi no e poi perché non ti porta su perché non la vuoi no perché ho pensato che lei non c'era no perché vent'anni fa uscivano i primi articoli sul giornale in cui tu stavi con lei e ti scoprivano a sestri levante ed è vero è vero quindi lei c'era lei c'era si ma non cantava vabbè ok si parliamo la prossima cosa facciamo una cosa senti siccome cristina è ancora prima dal 68 perciò vieni con me andiamo a fare il coro dai vieni signori ci vediamo questa è la sigla finale 5 minuti e poi una canzone splendida dolce delicata ci vediamo la prossima settimana con la seconda puntata di vent'anni dopo maurizio e cristina al coro dei crisi ma cinque minuti e poi canto complesso cinque minuti e un jet partirà portandoti via da me cinque minuti e un jet partirà portandoti via da me cinque minuti e poi anche tu partirei io non so che darei per parlarti ma tu già non sei più via tu sei già via lontano quattro minuti fra voi e poi anche tu partirai io non so che darei per parlarti ma tu già non sei più mia tu sei già via lontano guarda che addio mi dai tanto cielo fra noi è la fine anche se mai giurato che ritornerai da me aspetta 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 ma dove vai solo un minuto e un jet partirà portandoti via da me solo un minuto e un minuto e un minuto e uno guarda che addio mi dai Nei tuoi occhi non c'è, tu comunque per me Solo freddo ormai, piantartene amore Chiamano nome, sei tu Va, non vuol darti mai tu Tanto cielo fra noi, è la fine anche se Ma è giulato che ritornerai da me Fugie, fugie, non tornerai Ultima chiamata per il volo a Z111 in partenza per Buenos Aires Al cancello numero 3, imbarco immediato Fugie, fugie, non tornerai Che bellezza ci sono tutti Fugie, fugie, non tornerai Fugie, fugie, non tornerai Fugie, fugie, non tornerai